Ehi bella gente, il Doc è qua presente, ma Gio Benzinero ti sei salvato all'ultimo eh Jingle Bell, Gio Rosso, Nero il Benzinero, lo stavi acchiappando in cul e ti sei salvato all'ultimo Gio Rosso, Nero il Benzinero, lo stavi acchiappando in cul, Gio Rosso, Nero il Benzinero, lo stavi acchiappando in cul Com'è? Sfotti tanto la Roma e non vinci con la Roma? La Juve ti ringrazia, ti ringrazio Gio Rosso, Nero il Benzinero, a te e quella squadra farlocca Dai, siamo obiettivi, dopo un po' le perculate La partita, giusto l'X, cioè ditemi quello che volete, giusto l'X perché la Roma ha giocato meglio il primo tempo Il Milan meglio il secondo, il Milan va in svantaggio quando diciamo ha il pallino in mano Perché comunque prendere un gol al 94esimo è difficile però fa una gran prova di forza per me il Milan rega Cioè fa un gran favore alla Juve perché permette anche di poter perdere tra virgolette col Bologna che non si può perdere Però anche se perdiamo rimaniamo lì Però è una gran prova di forza rega, un po' fortuna è una gran prova di forza per me andare sotto al 94esimo e pareggiare al 97esimo Io però ho una domanda da fare a Pioli e questo mi sorge spontaneo chiederglielo Va bene che Salimaker è un'arma in più e tutto quello che vuoi ma come fa a non essere titolare dall'inizio? Come fa a non essere titolare dall'inizio? Ragazzi, Salimaker è veramente una delle armi in più del Milan Poi semmai la legge bene lui perché dice vedi lo metto dalla fanchina e mi può risolvere la partita Però secondo me Salimaker in campo a 90 minuti col senno del sé, col senno del poi si può parlare all'infinito Però per me avrebbe potuto vincere benissimo Comunque è una partita che non serve a nessuna delle due squadre assolutamente Serve alla Juventus Io continuerò sempre a dire che domani dobbiamo vincere e che Allegri tu a me mi fai schifo Eppure che mi porti l'Europa League ti dirò mi fai schifo perché oggi il doc Anzi no oggi Dopo tutta la merda che ci hai buttato io ti distruggerò qualunque cazzo di video Qualunque cazzo, finché tu non te ne andrai io ti distruggerò Non ti farò mai contro la mia squadra perché io la amo Spero che vinciamo domani perché sono allo stadio Sono allo stadio, vedi domani di non farmi fare brutte figure perché ti scanno Vieni a Bologna e dobbiamo vincere Te lo dico Allegri Comunque, regà, partita La classica partita di Mourinho, una Roma che giochicchia Milan che in Champions è gladiatore In campionato è il cagnolino col cappellino E ora un saluto dal doc e dal cagnolino di Men in Black Iscrivetevi al canale e fino alla fine Forza Juve, un bacione, ciao